Ciao a tutti, siamo i Pumper. Sì, siamo a Roma. Sosteniamo? Esatto. Sosteniamo SOS Scuola, anche se non è a scuola. No, ci siamo andati per un periodo stretto e sosteniamo SOS Scuola, e sosteniamo anche il dossier di SOS Scuola, come vedete. Fisicamente, però, quindi è proprio l'impegno. I Pumper sostengono tutto.